di solito mi succede così, qua giusto bene, qui recuperi lento, tic 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 facendolo venire qua sotto, di solito quando sei qua sotto c'è, esce, poi ovvio puoi essere 8 etti, 970 grammi, 1,103 kg, ancora qua la vedo avesca ... ... ... ... ... ... E' un test Ah, grazie veramente Ma ricoperando così a mezz'acqua In che senso? Però abbastanza Si Quando c'è il sole senti il calore E' l'asciugamento anche Sì Poi qua ci sono, a parte di scherzo Questa è il punto dove c'è il draghetto C'è il rigiro d'acqua Quindi ci sta La zona Blocchiosa Tra l'acqua Marroncini Mi piace Ho dovuto migliorare i prossimi costi Qui Un cazzo Un cazzo Un po' domani Nel draghetto In realtà è un altro Sarà quello cammino da Totluoy Ma non c'è un po' lui Noi non ci importa Ci spostiamo da qua Andiamo dall'altro lato Per vedere Difendere Eh eh te la guida un po', ecco un po' il lampo, la guardi tutto te la guardi in tutto, no, è un sgombro, te la guardi te la guardi grazie bello facciamo anche la foto la bianca come la bestia ok, ok ok Ah grazie Come un stupido Cazzo di volta nella parte sbagliata riesco Vabbè faccio una foto diversa Grazie 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 Non ce la fai Bella Giusto pennello su Poi recuperi lento Tic 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 Facendolo venire qua sotto Di solito quando sei qua sotto c'è Esce Poi vabbè poi sei ad otto etti 970 grammi 1,103 kg Ok Grazie 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 a tutti.